I suoni che avete ascoltato, questo strano stridio, non è altro che il suono dello spazio interstellare, ottenuto dalla sonda Voyager 1. Questa sonda sta viaggiando nello spazio dopo aver superato i confini di quella zona nella quale cessa l'influenza esercitata dal Sole con le sue radiazioni, cioè l'eliopausa. Al momento la sonda si trova nello spazio interstellare a circa 19 miliardi di chilometri della Terra ed è il primo oggetto fabbricato dall'uomo ad arrivare a queste regioni estreme dopo 36 anni di viaggio e pensate che la potenza del trasmettitore è di soli 23 watt. I segnali infatti arrivano indeboliti miliardi di volte impiegando 17 ore nonostante viaggino alla velocità della luce. Il Voyager 1 è stato lanciato nel 1977 insieme al Voyager 2. Lo scopo era quello di studiare da vicino Giove e Saturno, i due giganti gassosi del nostro sistema, dopo le indagini compiute in precedenza dalle sonde Pioneer 10 e 11. Il Voyager 2 fu inviato verso Urano e Nettuno che raggiunse con grande successo mostrandoci immagini affascinanti, mentre il Voyager 1 aveva una traiettoria diversa che lo portava molto rapidamente verso un altro confine mai raggiunto, quello appunto dove il Sole smette di far sentire i suoi effetti. Negli ultimi tempi gli strumenti avevano lasciato intendere che questo confine fosse stato raggiunto. La sonda Voyager 1 ha catturato così questi suoni che avete ascoltato da fuori del sistema solare facendoci sentire lo spazio profondo. Quello che avete ascoltato infatti sono vibrazioni del gas ionizzato interstellare. Il grafico che avete visto mostra la frequenza delle onde, mentre i colori indicano l'intensità di queste onde. Il rosso è per le onde più intense, il blu per quelle più deboli. Voyager 1 continua a farci sognare. Pensate, in viaggio da 36 anni ed è ancora in grado di mandarci dei segnali. Chissà dove arriverà. Grazie, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.